Posso chiedervi qual era il nome del vostro primo amore? Eugenio. Eroja. E da quanto siete sposati? Siamo sposati dal 76, dopo 4 anni di fidanzamento. 50 anni. E chi ha fatto la proposta? Che marito. Dopo poco, quando mi hai chiesto di tenere a tua nipote il battesimo. E qui c'è stato quella che la... E dopo neanche 6 mesi. Ma qual è il segreto per un matrimonio duraturo? Pazienza. Tanta pazienza e cercare di compensare un po' le esigenze di entrambi. E bene, come vi chiamate? Eugenio? Eugenio. Rosa. E Rosa. Io sono Eddie.